Un intellettuale curioso che ha fatto degli studi sul mezzogiorno quasi una ragione di vita, ma anche un politico attento che ha cercato di declinare in Basilicata le ragioni del riformismo. E' stato ricordato così Nino Calice nel convegno promosso dal Centro Annali per una storia sociale della Basilicata, dal Consiglio regionale e dai comuni di Rio Nero in Vulture e Avigliano. In tanti hanno voluto ricordare la figura del parlamentare lucano scomparso 20 anni fa, il 14 settembre del 1997, all'età di 60 anni, piegando ad un preciso disegno che si proponeva di coniugare politica, storia e cultura, Calice raccolse attorno a sé intellettuali e allievi a lui vicini, che coltivavano interessi per la storia e per altre discipline, vogliosi di confrontarsi con le problematiche connesse alla ricerca. E soprattutto, come ha detto il presidente merito della Camera dei Deputati, Luciano Violante, aveva una visione nazionale in cui collocava la sua regione contro ogni localismo e contro ogni separatismo. Figura di intellettuale inquieto, cioè mai fermo sempre, come dire, alla ricerca più profonda di una connessione tra la Basilicata e tutto il resto d'Italia. Mi pare che questo sia il segno del suo impegno profondo, non tenere la Basilicata separata dal resto d'Italia e anzi operare per che ci fosse una connessione sempre più stretta, una visione nazionale e quindi tutt'altro che localistica. A conferma di questa analisi, il messaggio indirizzato al convegno dal presidente merito della Repubblica, Giorgio Napolitano, se noi avessimo 10, 20 rio nero nel mezzogiorno coltivate e dissodate da organizzatori culturali come Nino Calice ha scritto, credo che sarebbe un po' diverso il mezzogiorno da quello che è, o potremo essere meno allarmati di come purtroppo dobbiamo esserlo. Di Calice naturalmente hanno parlato anche alcuni esponenti politici lucani, a partire dal presidente del Consiglio regionale, istituzione nella quale fu eletto nel 1970, partecipando alla stesura del primo statuto della regione Basilicata. Mollica ha ricordato che il professore di Rio Nero fu per anni un punto di riferimento per tanti giovani lucani. Questo ricordo di 20 anni è dovuto in quanto il senatore Calice ha avuto nell'ambito della storia di questa regione, anche se dall'opposizione, da un partito, il Partito Comunista, un elemento costruttivo, propositivo, anche se i governi erano di altro colore. Persone che vanno ricordate anche perché il loro pensiero è ancora attuale, come ad esempio la questione dell'immigrazione, dove lui parlava già allora di integrazione, dello spopolamento e di ciò che attualmente è oggetto di discussione nell'ambito delle politiche regionali e non solo delle politiche regionali. Sul fatto che questo territorio è ancora in ritardo in un gap infrastrutturale, una regione che deve poter proporre nella maniera dovuta, non urlando, persona pacata che poneva al centro dei suoi ragionamenti la pacatezza, ma la proposizione attiva. Tant'è che viene ricordato anche da grandi governatori e presidenti di questa regione come boccia, come una persona di quelle che poteva e dava il proprio contributo all'interno della discussione politica in questa regione. Per la mia esperienza personale, quindi non mi riferisco alla grande produzione culturale, editoriale di Nino Calici, mi riferisco alla mia esperienza personale. è un'eredità di enorme valore su un fronte particolarissimo della politica, che è quello della necessità di recuperare da parte della sinistra la dimensione e la caratura riformista dell'azione da promuovere. È un insegnamento che peraltro personalmente ho vissuto con enorme interesse, mi sono in qualche modo nutrito di questa spinta che il senatore Calice forniva quotidianamente, tra l'altro ci trasferiva anche noi, un po' più giovani di lui, per creare un po' le condizioni di un dibattito che non si fermasse alla superficie e che non fosse riempito soltanto di slogan, di luoghi comuni, ripetuti a memoria. Ed è stato, per quanto mi riguarda, un uomo che ha dato alla Basilicata e al Mezzogiorno una dritta generale. Da questo punto di vista credo che sia la cosa che manchi molto a Mezzogiorno. Pensatori e studiosi come Nino Calice hanno costruito per un lungo periodo le basi per che il Mezzogiorno si riscattasse. Ci sarebbe oggi bisogno di un Nino Calice nel meridione d'Italia che desse una mano a leggere la realtà e a fare proposte per risolvere problemi che nel frattempo si sono persino aggravati. Una grande passione civile, è una grande passione per la storia della sua terra e del Mezzogiorno. Probabilmente una passione ereditata da tutta una tradizione che in Lucania, in Basilicata, come poi si è chiamata, è molto viva e che lui riannoda spesso con quella di Giustino Fortunato. Anche questa è una lettura, non dico sorprendente, ma non consueta negli intellettuali della sua generazione e della sua ispirazione culturale. La rivalutazione che fa del meridionalismo fortunatiano insieme con la rivalutazione del meridionalismo classico e con le spinte alla modernizzazione che inevitabilmente sono venute. In uno dei suoi ultimi saggi fece una riflessione lucidissima su quello che l'illuminismo diffuso, il movimento illuminista diffuso in Basilicata aveva rappresentato in termini di innovazione, di sguardo al futuro, di non rassegnazione all'immobilismo e al non sviluppo. rappresentano le caratteristiche di una riflessione culturale che a mio avviso ha influenzato poi via via anche le sue posizioni politiche nel dibattito sui temi che di volta in volta si presentavano alla sua attenzione. E c'è stato infine il ricordo di quanti con Nino Calice hanno avuto una frequentazione lunghissima nata negli anni dell'adolescenza. Essendo anche, diciamo, conterranei, noi abbiamo avuto una frequentazione lunghissima quando lui era giovane e io adolescente. Allora, io ricordo soprattutto il caffè pomeridiano a casa sua. Quando io avevo 15 anni e lui aveva poco più di 10 anni prima di me, in cui ci scambiavamo opinioni sui libri che reggevamo e sulla passione politica che ci teneva insieme. Poi ci sono tante altre cose, molto più importanti ovviamente, ma questo ricordo che riguarda il periodo più remoto del nostro rapporto forse è la cosa che mi è venuta di raccontare a voi. Soprattutto una passione per il Partito Comunista Italiano, a cui arrivamo per vie diverse, essendo anche diverse le generazioni, ma che ci trovò accomunati per tutta la vita. Grazie. 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 Grazie.